Le normative oggi per fortuna sono parecchie, quindi anche come sistema paese ci stiamo muovendo e stiamo accelerando tanto su questo tema per cui recepiamo sia delle normative che sono di stampo europeo come la NIS 1 e adesso la NIS 2, temi come il perimetro di sicurezza nazionale cibernetico che vede praticamente le infrastrutture critiche all'interno di un determinato perimetro che deve ovviamente rispondere a delle misure di sicurezza ulteriori, standard tecnici ce ne sono tanti altri ma penso che la leva normativa sia poi quella che ci aiuta a far capire al management delle aziende ma anche in ambito pubblico quale sia, quindi al legislatore, quale sia l'importanza della cyber security e la sua rilevanza. Allora sicuramente la tecnologia è una componente fondamentale della cyber security ancora più importante è però il processo che sta a monte, quindi una valutazione dei rischi corretta un assessment della postura, dopodiché si va a declinare chiaramente sui temi tecnologici. Diciamo che a livello di cyber security in ambito utiliti ma come in tutti gli altri settori è importantissima la visibilità, quindi ovviamente prima di poter capire quali tecnologie adottare o quali matrici di rischio utilizzare è importante capire cosa abbiamo in casa e con quali tecnologie andiamo a supportare il nostro business. Evento organizzato molto bene per cui faccio i complimenti all'organizzazione diciamo che questi eventi sono comunque per noi che facciamo security tutti i giorni un ottimo modo di condivisione e di confronto su tanti temi. Abbiamo imparato tanto dalla condivisione che abbiamo fatto negli ultimi anni a fronte dei vari purtroppo attacchi o anche condivisione di best practices, di cose più positive, cerchiamo di continuare anche come partnership pubblico privato.